Ha debuttato nella serata di giovedì 27 febbraio l'orchestra di Pane e Salamina, una serata all'insegna della buona musica con l'orchestra Maccio di Massimo Cevrero, tanti musicisti appassionati del settore. Questa sera partirà una grande collaborazione con Pane e Salamina, che è un po' il sito dove gli amici guardano per dove andare a ballare, appunto la sera, i vari eventi che ci saranno nel Bresciano e forse non solo. Niente, la mia orchestra è nata sei anni fa, è composta di nove elementi, anche se questa sera per l'influenza me ne manca uno. Comunque è un'orchestra orientata a fare un po' tutti i generi, a 360 gradi, perché nei locali oggi si fa appunto di tutto, e questa sera vi daremo una piccola dimostrazione di quello che facciamo. Il tutto è lietato e sponsorizzato dalla presenza di Radio Vera e Radio Bruno Brescia, che seguiranno anche i prossimi incontri.